Primo giorno di chiusura per l'asilo nido comunale Il Girasole di via di Azzatteramo. Dopo la positività di un'operatrice al Covid-19, con un'ordinanza sono state sospese le attività didattiche in presenza fino a mercoledì, in attesa che vengano effettuati i tamponi agli alunni e al personale, che come è stato riferito è quasi per la totalità vaccinato. Nel frattempo si sta procedendo con la sanificazione e l'igienizzazione della struttura. Inoltre è stato avviato già il tracciamento dei contatti stretti tra i bambini e le famiglie, che sono attualmente in isolamento fiduciario in attesa di tampone molecolare. Una disposizione che si è resa necessaria per poter mettere in campo le misure di profilassi di carattere generale, sanitario, di prevenzione e di contenimento, per poter garantire la sicurezza ai bambini e ai familiari e al personale. Dopo la risposta dei tamponi, che presumibilmente verranno effettuati domani, per far fronte a eventuali nuove positività.